Ma salve a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo vlog, finalmente cominciano a fare di nuovo belle giornate e quindi posso tornare finalmente a vloggare all'aperto e mi sono scelto questo angolino qua all'ombra perché io sono allergico al sole, sai no? Il sole bacia belli e brutti la ciega e io siccome sono diversamente bello, se mi metto al sole divento un indiano ho un gambero, è uguale Allora, ultimamente sono stato abbastanza preso nella mia vita privata, personale perché si sa che le persone comunque possiedono una vita Sì sì Vrex, ma a noi non ce ne frega niente, noi vogliamo sapere quando esce il nuovo video Vogliamo il nuovo video, come te lo dobbiamo fare un cartellone, ti cantiamo la canzone, via Oh Vrex, come mai tu i video non fai? Vogliamo il video, vogliamo il video Oh eeeh, un attimo, ora mo' ci arrivo, e che cazzo? Sego? Allora, per chi mi segue già da un po' di tempo, ho visto che io cerco comunque sempre di essere abbastanza regolare con i caricamenti tranne nelle ultime due settimane che c'è stato, a parte quel casino là con le DLC di Mass Effect 2 e quindi che ho dovuto bloccarlo, comunque l'ho risolta, mi mancano soltanto le skin pack però diciamo quelle grosse ce le rio poi c'è stato di mezzo il mio compleanno e quindi logicamente almeno quel giorno lì non mi ci metto a registrare se permettete e poi ci sono stati diverse cosette, poi questo è il periodo tra l'altro che bisogna cercare lavoro perché cominciano ad aprire bar, ristoranti e bagni, qui bisogna battere il ferro finché è caldo e sparare i curriculum in giro quindi anche quello ha portato via un bel po' di tempo e in più ci sono, per esempio domani a Luca c'è un mini raduno cosplay organizzato da alcuni miei amici quindi sarò là e quindi niente, queste due settimane sono andate un po' così comunque dalla prossima si ricomincia il solito tram tram ricominciamo con la serie di Mass Effect normale e i video codex e i video con Leon ho dovuto un po' mettere tutto in pausa sia per questi problemi qua sia insomma perché non avevo il tempo fisico materiale per registrare comunque sia, arrivando al sodo oddio Vrex ha un bigliettino, è una lettera d'amore sì, a tutte le ragazze, vi amo tutte allora, ai ragazzi no perché sono brutti dicevo, come è successo col finale di un primo Mass Effect dalla fine del primo Mass Effect all'inizio di Mass Effect 2 avevo fatto una pausa proprio dalla serie di Mass Effect portando un altro titolo una serie nel mezzo tra il primo e il secondo capitolo e per chi si fosse aggiunto proprio negli ultimi giorni che ho visto che gli iscritti stanno aumentando infatti vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra iscrizione e quindi prima che me lo chiediate, sì farò anche Andromeda purtroppo comunque stavo già pensando a qualche titolo abbastanza corto da poter portare come serie di pausa tra Mass Effect 2 e 3 infatti, come sono puntato qualche titolo Alan Wake sarebbe il primo titolo che mi è venuto in mente che è stato un regalo di Hans di Portal Games di Natale tra l'altro mi ha regalato la chiave di Steam e l'ho finito in circa 11 ore quindi in una decina di episodi lo facciamo fuori mi piacerebbe tanto portare la trilogia di Bioshock partendo anche proprio dal primo, il secondo e il terzo ovviamente sono tre giochi quindi magari quello la teniamo in caldo per quando è finito Mass Effect dopo Andromeda poi si vedrà, la strada è lunga ancora Dead Light Director Cut, anche questo è un regalo di Hans di Natale è un gioco survival a tema zombie ed è un indie l'ho provato giusto tre ore, è carino, mi sta piacendo però devo ricominciarlo da capo perché anche se è in italiano insomma vanno lette le note, è un gioco che prende uno deve vivere la situazione io l'ho giocato così solo per provarlo e ho visto che è carino comunque per essere un 2D scorrimento orizzontale mi piacerebbe tanto portare Doom 3 perché Doom 4 è una merda, fa cacare quel gioco non è assolutamente un horror, è un platform come i mostri Doom 4 non esiste tra l'altro che non si lega nemmeno con la trama del 3 vabbè lasciamo perdere quindi Doom 3 però non il BFG Edition Doom 3 è quello normale, quello vecchio quello che nelle zone buie tu dovevi andare avanti col flash degli spari delle armi nella BFG Edition ci hanno messo le torci attaccate alle armi quella cosa non mi è piaciuta comunque ed è un horror con cui ci si caga addosso e l'ho finito in meno di 10 ore comunque quindi anche quello lì ce lo spariamo velocemente e mi piacerebbe tanto portare anche Half-Life 2 perché è un gioco che le generazioni nuove devono conoscere ora anche il primo meriterebbe menzione però siccome il primo è non tanto per la grafica stile PlayStation 1 ma per il fatto che i giochi vecchi avevano quella meccanica che non tutti possono apprezzare ovvero scenari labirinto devi trovare la chiave del colore della porta poi aperta quella porta c'è un'altra chiave che la devi portare all'altra porta aperta quella porta c'è un'altra chiave che la devi portare all'ingresso i giochi vecchi erano così poi ovviamente c'erano i mostri e la trama nel mezzo però non penso che un gioco del genere possa piacere poi ditemi voi mentre invece col secondo cambia tutto oltre al fatto che hanno rimodernizzato la grafica il comparto delle armi e tutto quanto l'ho trovato molto più avvincente quindi magari nel caso si sceglie Half-Life 2 del primo faccio un episodio riepilogativo di ciò che è successo nel primo gioco così da avere un'idea, un quadro generale della situazione del mondo in cui andiamo ad affrontare e poi comincio Half-Life 2 che poi ci sono anche due estensioni corte ma molto molto belle e nel caso ve lo state chiedendo nel frattempo tra un impegno e l'altro insomma nei miei momenti di relax mi sto facendo fuori due giochi che ho scoperto di recente uno che è assolutamente sconosciuto prende a piene mani da Doom 3 anche se non è un horror ma è fantascienza a quei mostri molto molto ignorante con lo shooting che si chiama Alien Rage purtroppo in inglese ma ci sono i sottotitoli in italiano quello lì magari porterò un episodio così giusto per farvelo conoscere e l'altro che sto giocando questo ci sto dando veramente fondo si chiama Westland 2 però che sarebbe praticamente le origini del vecchio Fallout perché per chi non lo sapesse Fallout il primo nasce come clone di un gioco che si chiama Westland infatti anche in Westland ci sono i figli dell'atomo anche se vengono chiamati con un altro nome ed è un RTS strategico non penso che ci farà una serie sopra perché gli RTS portano via molto tempo perché devono essere ragionati magari un paio di episodi anche questo per farvelo conoscere questo giusto per dirvi i giochi che sto giocando attualmente niente per il momento le novità finiscono qua è un periodo dicevo abbastanza sono abbastanza preso in questo periodo qua comunque i video tornano tranquillamente ho dovuto ho dovuto mettere un attimo in pausa per via di sia di cose importanti come colloqui di lavoro sia problematiche varie come il casino che è successo con Origin comunque spero che vi stiate godendo queste giornate di sole in culo a chi ama la pioggia e noi ci becchiamo al prossimo video